La perfetta medicina Giovanni Cassiano, 360-435, monaco originario dell'attuale Romania, commemorato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa, in Istituzioni 1,8, dice Ecco la perfetta medicina dell'Ira. Prima credere che non è illecito di adirarci per nessuna causa, sia giusta sia ingiusta, sapendo che perderemmo subito il lume della discrezione, la fermezza dell'erretto consiglio e persino l'onestà e la guida della giustizia, se il lume principale del nostro cuore verrà oscurato dalle sue tenebre. Poi, credere che la purezza stessa dell'anima nostra sarà presto turbata e non potrà essere tempio dello Spirito Santo se c'è in noi lo Spirito dell'Ira Condia. Infine, pensare che se siamo adirati non possiamo rivolgere la preghiera a Dio. Commento La perfetta medicina di ogni bassezza umana è l'evoluzione.